la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna stampa di lunedì 5 gennaio quest'oggi come di consueto nel lunedì parleremo molto di sport, di calcio ma purtroppo dobbiamo aprire questa rassegna stampa con la notizia arrivata questa notte con la morte del cantante napoletano Pino Daniele che si è spento all'età di 59 anni lo leggiamo, dalla edizione online del mattino lo leggiamo, è morto Pino Daniele il mondo della musica è sotto shock cantante napoletano stroncato da infarto alle 2 di questa notte il figlio sono senza parole la notizia si è diffusa rapidamente sui social network e soprattutto colpito da un malore nella sua casa in Toscana avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 19 marzo sui social network messaggi di addio di altri artisti da Eros Ramazzotti a Clementino Negramaro, Fiorella Mannoia e quindi il mondo della musica dopo Mango piange un altro grande artista continuiamo nella rassegna stampa e andiamo a leggere adesso le prime pagine dei quotidiani regionali partendo come al solito dal mattino di Napoli un mattino che apre sulla vicenda dei vaccini 4 milioni di vaccini da buttare e questa l'inchiesta portata avanti dal mattino dopo i casi fluad arrivano altri stop e lo leggiamo antinfluenzale in calo del 20% virus mutato il siero può essere meno efficace questo dopo il caso fluad la profilassi si è fermata uno spreco da 13 milioni di euro il virologo Tarro campagna condotta male intanto leggiamo quanto riguarda invece la politica il caso Berlusconi e arriva anche lo stop del premier Matteo Renzi il premier che la riforma fiscale viene così rinviata a febbraio il premier non facciamo norme ad personam l'azione penale non è il deterrente contro l'evasione le parole del fiscalista Lupi ma ora non perdiamo altro tempo al paese serve una semplificazione in alto invece l'apertura è dedicata a Gabbiadini già un idolo segno alla Juve mille tifosi in delirio invadono l'aeroposto l'attaccante costretto ad uscire da una porta secondaria il neo acquisto subito da Benites il debutto contro i bianconeri qui per diventare un top player ormai la squadra è più forte ora è vietato distrarsi questo quanto scrive nel titolo dell'editoriale di Francesco De Luca scendiamo ancora più in basso e leggiamo invece le altre notizie il flop del super radar contro gli scafisti il sistema europeo Seahorse doveva intercettare i barconi ma non è mai partito mentre il ponte che ha retto solo una settimana tra Palermo e Agrigento l'ANAS si vantava di averlo costruito in tempo record e poi arriva l'analisi il rilancio del Sud in 5 mosse questo l'editoriale di Massimo Locicero chiudiamo la prima pagina del mattino e andiamo a leggere la pagina dedicata alla città di Salerno il mattino Salerno che appunto parte dalle micro discariche high tech crociata high tech comuni cumuli di spazzatura vicino alle campane di vetro in arrivo maxi multe da 500 euro dossier dei vigili urbani 20 trasgressori immortalati dalle telecamere scatta la tolleranza zero a centropagina invece leggiamo bus extraurbani la rivolta dei pendolari rincaro contro i biglietti TIC aumenti fino a 2 euro sugli abbonamenti la stangata di gennaio infine in questa foto vediamo Variante con il segretario il segretario provinciale Landolfi Variante sfida De Luca basta furbizi e fare chiarezza e recuperare le condizioni di agibilità politica all'interno del Partito Democratico chiede questo il deputato Simone Variante che dopo il casoliele rivendica il rispetto dei rapporti di forza all'interno del partito per uno scontro che va ben oltre la crisi di maggioranza di Palazzo Sant'Agostino con strascichi strascichi che anche per le primarie chiama in causa il sindaco De Luca prendendo le distanze dall'operato del presidente della provincia Giuseppe Canfora Di spalla invece leggiamo la questione degli scambi marittimi in crescita ma il sud rallenta il trend dell'interscambio marittimo c'è una crescita del 2,1% in l'ultimo trimestre ma il sud purtroppo non prosegue allo stesso ritmo infine in basso leggiamo la vicenda accaduta all'ospedale Umberto I di Nocera abbandonato tutta la notte su una barella sciocca al pronto soccorso Umberto I di Nocera ed è questa purtroppo la notizia del giorno da Sant'Arsegno a Roma per curare il virus Ebola la missione di Ippolito c'è anche un po' di Vallo di Diano nell'equip che ha curato riuscendovi il medico di Emergency colpito da virus Ebola Fabrizio Pulvirenti il direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani e infatti di Sant'Arsenio con questo si chiude la prima pagina del mattino di Salerno andiamo a leggere anche come titolo e come apre invece la città di Salerno questo lunedì e apre con la politica le nomine spaccano Forzisti e Partito Democratico accuse e veleni dopo gli incarichi a Melchionda e Montera Valiante Junior sferza il sindaco De Luca l'intesa sull'asse Scafati Eboli divide Fraterri d'Italia La Longo da Liberti schiaffo al partito di Spall invece vediamo la politica fisco e politica Renzi blocca la norma che salvava Berlusconi il presidente del consiglio ha bloccato la riforma del fisco dove è contenuto un codicillo che avrebbe potuto ridare agibilità politica a Berlusconi mentre leggiamo più in basso la questione degli autobus bus TIC sotto accusa il sindacato chiede la revoca delle nuove tariffe utenti pedalizzati intanto a Salerno la bomba per gli annone Cardella la PM a Cava di Tirreni proteste appreggiato per le fogne otturate mentre sempre per quanto riguarda la cronaca scontro tra auto a Padula grave una donna tolta la patente a uno dei guidatori era positivo all'alcol test ad Acropoli riapertura ospedale Pressing su Caldoro a Pollica le tipicità del Cilento protagoniste sulla Rai infine la spalla dedicata completamente allo sport Salerditana blizzi dei tifosi a Caserta vincete per noi in serie D poker dell'Agropoli vetta più vicina che avete invece Corsara e infine in basso il Napoli entusiasmo per alle stelle per Manolo Gabbiadini questa la prima pagina della città di Salerno ma andiamo a leggere rapidamente la notizia interna della pagina interna di Salerno ovvero quella riguardante Padula e l'incidente avvenuto a Padula con alcuni dettagli e partiamo appunto dall'incidente l'incidente a Padula ferite anche un bambino e carabiniere al conducente dell'altra auto è stata ritirata la patente uno spaventoso incidente stradale si è verificato nella strada di sabato sulla strada statale 19 all'altezza del comune di Padula nei pressi dell'ex passaggio a livello ferroviario nella frazione di Vallo Scalo per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di sala Consilina e degli agenti della polizia stradale due auto si sono scontrate frontalmente ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Fiat Punto sulla quale viaggiavano un carabiniere di Montesano sulla Marcellana con la moglie e il nipotino subito dopo il violente impatto alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato la centrale operativa del 118 e dopo alcuni minuti sono arrivate due ambulanze che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Polla ad avere la peggio è stata la donna che era a bordo della Punto per lei infatti in seguito ai traumi riportati si è reso necessario un intervento chirurgico nella notte intervento che è perfettamente riuscito ed ora la donna si trova ricoverata in prognosi riservata ma fortunatamente secondo le discrezioni trapelate da ambienti sanitari non è in pericolo di vita gli altri due invece se la sono cavata con delle lesioni giudicate guaribili in pochi giorni l'uomo di Padula che era invece alla guida della peggio è stato sottoposto all'alcol test e dal risultato è emerso che il tasso di alcol presente nel sangue era pari al doppio del limite consentito e nei suoi confronti è scattato il ritiro immediato della patente gli agenti della posizia stradale della sottosezione di sala consiglina ora stanno lavorando sulla ricostruzione della dinamica esatta dell'incidente questa è in dettaglio la notizia principale che riguarda il Vallo di Diano e proseguiamo adesso nella lettura delle prime pagine affidandoci a cronache del Salernitano un cronache che apre con l'intervista a Melchionda una carognata dal Partito Democratico consorzio farmaceutico il neopresidente attacca ha ridotto anche lo stipendio il godo della fiducia degli altri sindici non li capisco hanno firmato con FD la sfiducia e sono rimasti nel partito intanto Asl Salerno 3 due nomine illegittime condannato l'ex commissario De Angelis dovrà risarcire 63 mila euro con Lorenzo Rosati mentre l'attentato a Iannone è perduto ci sono le impronte di Cardella perché prese la Molotov e quindi si cerca di risolvere questo giallo questo giallo queste inchieste intanto la Casertana riceve un premio speciale per battere i Granata il patron Lombardi non vada a spese per il derby Menichini con un solo dubbio Castiglia intanto va al Como questa è la pagina dedicata allo sport ma rientriamo nella cronaca e le notizie molto più di carattere più importante a Salerno danneggiata l'auto di Don Russo il parroco di Santa Margherita Sica invece per quanto riguarda la politica se ne va con Cozzolino intanto l'Aliante attacca nuovamente l'Andolfi e De Luca non ci perdo più la faccia cena al Porcellino d'Oro intanto per siglare l'accordo e infine la vicenda di Polla Antonio Vallo racconta l'inferno della Norman Atlantic l'uomo infatti come vedremo si trovava a bordo dell'auto della nave e appunto andiamo a vedere a leggere cosa ci riserve invece adesso la pagina di Metropolis un Metropolis che apre con gli stipendi gonfiati al Ruggi e lo leggiamo stipendi gonfiati al Ruggi Ruggi ospedale di Salerno la denuncia del sindacato Sapmi per la mobilità fuori regione dirigenti e parametrici nel Merino gli emolumenti maggiorati anche di dieci volte in tanti ha scafatti la segretaria di Disaia dirigente più pagata ha scafatti il caso Nappo Chirico il PD è senza idee e scendiamo ancora più in basso Pagani la notte bianca la città in sorge a battipaglia coppia rivuole i suoi tre figli mentre a Salerno i vandali appassano un'auto danneggiata le regionali l'assist di Ponte Gagnano Sica guarda Cozzolino mentre anno c'era inferiore igiene urbana la svolta il comune ora fa da sé di spalle invece c'è tutta la parte dedicata allo sport di Metropolis blitz derby blitz dei tifosi vicini alla Salernitana sostegno alla squadra di Americhini il sindaco di Caserta intanto invita De Luca in Lega Pro sempre verrà Malaccari quindi si parla di mercato la Cavese in Serie D riprende la corsa Scafatese invece pari prezioso sembra in Serie D l'Agropoli rivede la vetta Battipagliese tutto facile infine in eccellenza lo vediamo Ferraioli e Coringrato Cedina K.O. a Sant'Antonio e poi lo spazio al basket con sciagurata Givova Scafate rimontata da Recanati con la prima pagina di Metropolis si chiude la prima parte della nostra rassegna stampa ci vediamo nella seconda parte per parlare di sport e non solo seconda parte della rassegna stampa di questo lunedì 5 gennaio che apriamo con lo sport e partiamo proprio da leggere come apre la pagina sportiva del mattino di Napoli il mattino di Napoli che c'entra tutto sull'arrivo di Manolo Gabbiadini il delirio per Gabbiadini leggiamo Napoli ora la squadra deve crescere e il punto scritto da Francesco De Luca secondo il quale e lo leggiamo all'interno del appunto del mattino il Napoli ormai è attesa domani dal Cesena e domenica dalla Juventus deve accelerare perché rispetto al campionato scorso si registra una differenza di 8 punti quest'anno non c'è stato l'impegnativo girone di Champions League a condizionare le prestazioni di Higuain dei suoi compagni De Laurenti si attende che anche un'altra risposta quella di Benitez sul rinnovo del contratto Rafa riflette su due idee andare via a fine campionato accettando una delle proposte che arrivano dalla Premier League o firmare con il Napoli fino al 2016 passando poi a guidare la nazionale spagnola dato che è appunto considerato l'erede delurale del CT del Bosch intanto leggiamo invece sempre per quanto riguarda lo sport quello che accade e le parole di Causio Manolo è bravo ma non va pressato un gol alla Juventus spero proprio di sì ma l'importante sarà vincere il biglietto da visita di Mianolo Gabbiadini che ieri è sbarcato a Capodichino travolto dall'affetto di circa mille tifosi il nuovo esterno azzurro sconterà domani contro il Cesena la sua giornata di squalifiche quindi è già proiettato nella prima serata nella sua prima serata a Napoli proprio alla sfida contro i bianconeri che lo hanno ceduto e che arriveranno al San Paolo il prossimo 11 di gennaio chiusa la prima pagina del mattino sport ricordando che tra le altre cose ad esempio il Real Madrid di sera ha perso la prima partita dopo 22 vittorie consecutive quindi non riuscendo a battere il record di 24 vittorie consecutive leggiamo la parte dedicata invece alla Salernitana una Salernitana anch'essa impegnata domani nel turno della Befana contro la Casertana in un derby chiesto dove anche i tifosi hanno chiesto la vittoria e leggiamo proprio la sorpresa quella di mister Menichini potrebbe essere proprio gabionette che va sulla fascia con Menichini che così gioca il giorli la Salernitana potrebbe vedere in difesa Bianchi terzino per frenare la velocità di Achite mentre Tuia resterà al centro in attacco De Nilsson gabionetta esterno a destra c'è anche Perulli in prima linea in coppia con Cai intanto il caso ultra arrivano al Volpe in scitamenti per Capitan Pestrin un pacifico blitz in una trentina di tifosi della Salernitana hanno fatto capolino al Volpe durante la seduta di allenamento porte chiuse sulla carta come ormai di consueto ma approfittando dell'apertura dei cancelli del Palatulimieri in molti sono riusciti ad avvicinarsi alla recinzione esterna incitamenti per Capitan Pestrin che domani non giocherà e per Menichini invitando a più riprese a far sì che gli allenamenti fossero a porte a peste dovete chiedere alla società ha fatto Spallucci il trainer che poi si è avvicinato ai supporter le vinciamo tutte ha rassicurato prima di tornare sul campo andiamo a leggere anche sempre in tema di Leca Pro il mercato l'ex nocerina Bruno è stato offerto al Benevento mentre il Lecce punta sull'ex paganese Palma questo è di fatti quello che dice lo sport del mattino andiamo a leggere anche la prima pagina della città sport una città che apre con il titolo dedicato alla Salernitana Salernitana la carica dei tifosi in manifestazione d'affetto per la capolista in vista del big match di Caserta per rulli all'esordio intanto in serie D e lo leggiamo in alto l'Agropoli vince torna in corsa riscatto Caveso Gelbison Capau in eccellenza la nocerina comincia male il nuovo anno calcistico mentre partendo invece di spalla leggiamo tutti i movimenti relativi alla serie A con il Napoli mille sostenitori a Capodichino per l'arrivo di Manolo Gabbiadini ed era questo di fatti quello che ci dice la città di Napoli che annuncia anche il ritorno al calcio di oggi di questa sera con l'anticipo Lazio Sampdoria e l'ex Mihailovic mentre in basso si parla dell'ex capitano della Salernitana Breda che il suo esonero dal latino in latino parla sempre salernitano Breda esonerato Dainer Azzurri al suo posto arriva l'ex Granata Mark Giuliano e infine gli altri sport con la Di Martino a febbraio sarà di nuovo in petana l'annuncio di Antonietta che ritornerà alle gare dopo un periodo molto difficile e finalmente sto bene a febbraio sarò di nuovo in pista questa è la prima pagina del mattino sport andiamo adesso a leggere quanto è accaduto nei vari campionati direttantistici a partire dall'eccellenza campana Girone B che ieri ha di fatto riaperto la corsa alla promozione all'interregionale e anche alla lotta per non retrocedere e aiutandoci con le grafiche di Metropolis andiamo a vedere tutti i risultati e le classifiche maturate dopo le gare di questo fine settimana la ventesima giornata del campionato ha regalato lo vediamo una campagna forza e coraggio 0 a 0 poi c'era un eclanese palmese 0 a 1 massalubrense mariglianese 2 a 1 a 2 real potecagnano gragnano 0 a 1 real vico santaniello 0 a 0 sant'antonio abbate nocerina 1 a 0 sant'ommaso valdiano 2 a 0 mentre la sfida tra vissariano e scafatese è stata rinviata per impraticabilità dell'impianto sportivo appunto della squadra del vissariano riposava ma invece il il faiano una classifica che vede il gragnano allungare in classifica a coda 46 punti seguito 42 dal santaniello bloccato dal real vico che resta 38 la scafatese non gioca e resta a 40 via via tutte le altre con il valdiano che fa parte del terzetto a 25 punti con sant'ommaso e faiano le due squadre che di fatti hanno dato le ultime due sconfitte alla compagine allenata da mister tudisco che la prossima settimana se la vedrà al vertucci di tegiano contro contro le cranese e questo di fatti quello che è accaduto nel campionato di eccellenza campana girone bi una mara sconfitta per il valdiano che dopo quella maturata prima di natale in casa contro il faiano la prossima contro le cranese dovrebbe ridare e sperare di ridare un po' di serenità alla squadra visto che si affronta l'ultima della classe non solo eccellenza ieri si è giocato anche nel campionato di promozione un campionato di protezione che sta regalando diverse sorprese in testa con la sconfitta tra sabato e domenica delle prime due della classe ovvero giffonese e bolitana e che ha visto anche invece la vittoria della rocchese che si è issata di fatti al secondo posto a meno uno dalla vetta vince ebbene il sassano in casa contro gli intercasali ma andiamo a leggere nei dettagli tutti i risultati del girone di della promozione con un temeraria calpazio 0 a 0 reale versano giffonese 2 a 1 picciola volce 2 a 0 olimpic salerno e bolitana 2 a 1 sassano intercasali 2 a 1 poseidon real agropoli 0 a 1 4 a 0 del santa maria contro il real bellizzi la rocchese che vince 4 a 1 dicevamo della classifica che vede in testa l'ebolitana a 34 poi seguita dalla rocchese a 33 32 giffonese temeraria via via tutte le altre con il sassano che con 23 punti esce di fatti dalla zona calda della classifica mentre con il volcei che resta sempre più imbottigliato in queste zone calde la prossima settimana il sassano sarà in trasferta sul campo del real bellizzi e visto l'attuale situazione della compagine di bellizzi dovrebbe essere vittoria per i ragazzi di mister cammarano che ieri hanno di fatti riabbracciato il gol di De Stefano al ritorno con la maglia del Sassano dopo che la prima parte della stagione l'aveva disputata con la maglia del Casoria andiamo avanti leggiamo quanto è accaduto nella prima categoria girone G e girone H rapidamente leggendo alcuni risultati importanti li vediamo aiutandoci con le grafiche proposte dal cronaca del Salernitano nel girone G vediamo c'è stato l'importante successo dell'Atletico per niente fermato l'Audax quattro gol di Maiorino che regalano il successo a Procolliano e il pirotecnico 3 a 3 tra Real Palomonte e di fatti Sporting Corvino qui scritto Fipe San Cipriano una classifica che avete sempre il Salernum che ha riposato in testa a meno 1 c'è l'Atletico per niente a meno 2 l'Audax via via tutte le altre con il Real Palomonte che ambisce l'assalto di categorie che resta però a meno 8 dal primo posto nel girone H vincono tutte le prime due Canna Longa e Vigoro Castellabate pareggio invece in casa delle Rayon il Montesano di Mister Giasi qui non viene dato ma il finale tra Vesole e Gregoriana è di 1 a 1 con la Gregoriana che ottiene un importante punto per la lotta alla salvezza mentre da segnalare ormai la fine del Valloscalo che dovrebbe annunciare il ritiro dal campionato nelle prossime ore infine chiudiamo con il campionato di seconda categoria Girone N un Girone N che di fatti è molto combattuto vedo in testa le diverse squadre il Rofrano che continua la sua la sua corsa una corsa che è fatta di sette vittorie in altrettante gare disputate ieri anche la vittoria in casa del Sant'Arsenio e in segue il San Vito Sapri il Certoza di Padula e lo Sporting Sala Consilina 3 su 15 profila una lotta tra queste quattro squadre nell'ultima parte della stagione leggiamo il Roboante 11 a 2 del San Vito Sapri contro il Licusati il 4 a 0 del Certoza di Padula e anche il 9 a 0 del Sala Consilina contro il Magorno una classifica che vediamo parla chiaro a meno 3 dal Rofrano c'è il San Vito e a meno 5 ci sono Certosa di Padula e Sporting Sala Consilina di fatti pronostici rispettati forse la vera sorpresa è proprio questo Rofrano in testa alla graduatoria con lo Sport si chiude come di consueto scusate la rassegna stampa del lunedì questo lunedì 15 gennaio io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando a tutti gli approfondimenti sia sul nostro sito internet che nelle prossime edizioni del telegiornale vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata